Parla un furbo, signor commissario, uno più furbo di tutti voi. L'ho già fatta franca due volte, la farò franca ancora e ucciderò ancora. Caro commissario, ucciderò ancora e presto. Signora Marchi, su quella camicia ci sono le cifre A e M, come Alessandro Marchi. Vuol dirci quello che sa, signora? Per favore, attenzione! Vi stiamo presentando alcune scene tratte dal film Una farfalla con le ale insanguinate. Ti sei sporcato di sangue. Gruppo B, RH negativo, lo stesso gruppo sanguigno di François Aspigo. Ma per un innocente! C'è sempre la speranza di non dover rivelare dei fatti che potrebbero comprometterlo. E Alessandro Marchi è innocente! Quel venerdì pomeriggio. Le prove adotte sono inconfutabili e convergono tutte su di una persona. Tutte indicano una e soltanto una persona. Indicano l'accusato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.